E per RKO dall'altra parte del telefono c'è Paolo Gatto. Ciao Paolo, come stai? Ciao, tutto bene, benissimo, grazie. Ciao Carlo, tu come stai? Bene, bene. Insomma, primo giorno di zona rossa, quindi, insomma, chiuso in casa, però insomma, dai. Il primo giorno della terza storia è uguale. Esatto, esatto. Vabbè, dai, ma io sono contento in ogni caso di sentirti finalmente dopo un sacco di tempo. Ci siamo rincorsi in bel posi, infatti. Esatto. Invece, prima di parlare degli embrioni, cosa hai fatto in tutto questo tempo? Perché, insomma, l'ultimo disco risale un po' di tempo fa. Certo, sono stato a Magese, come si può dire. Ho sfruttato l'onda del disco e ho fatto concerti per altri 4-5 anni, quindi dal 2009-2010 fino al 2015. Poi nel 2015 ho conosciuto la mia attuale compagna e abbiamo deciso di trasferirci a Roma e lì ho fatto per un altro pari d'anni dei concerti che però non mi hanno soddisfatto perché fare cappetteria nei locali, nei pub, mi ha un po' stufato, almeno per quello che è il mio genere di musica. E allora mi sono ritirato a fare l'insegnante di teatro, perché ho anche un diploma in Accademia di Arti Drammatiche, nelle scuole. Ho insegnato teatro ai bambini dai 3-6 anni. Questo ho fatto fino a 4 anni, per 3-4 anni, diciamo, di inescrività dal punto di vista musicale, nel quale però ho accumulato scritture su scritture su scritture. Quando poi il lockdown ci ha ricostretti a casa, piacevolmente a casa, noi siamo stati tra quelli che fortunatamente sono riusciti a trarne beneficio, a fare di necessità virtù. Ci siamo messi a rilavorare sul web e sulle nostre produzioni, Laura sulle sue e io sulle mie musicali. Abbiamo deciso di fare un bambino, l'abbiamo concepito, e abbiamo deciso di crescerlo almeno per i primi due anni della sua vita in un paese con un po' di community in cui in realtà volevamo tornare a Bari, perché ci piace e ci manca tantissimo Bari. Siamo tornati a Bari, abbiamo trovato casa, siamo stati un mese nella nuova casetta, e poi abbiamo saputo del lockdown imminente a novembre, della gravidanza di Laura, e allora abbiamo detto vabbè dai torniamo ai nostri paesi, noi siamo di Gravina e Altamura, e al momento stiamo vivendo qui e io ho ripreso a produrre musica molto piacevolmente e molto felicemente. Infatti, una bellissima storia, io sono contento. Allora a questo punto spieghami un po', Embrioni, che cos'è, e ho visto che è molto articolato, perché ovviamente lì ci hai messo un po' tutta l'esperienza, sia la musicista che appunto quella teatrale, tra virgolette. Sì, esatto. È un progetto che volevo unire esattamente queste mie due competenze, quella teatrale e anche in realtà quella del social marketer, perché è una materia che mi affascina e mi sta molto attraendo. e allora ho messo su questo progetto in parallelo al concepimento, quando ho saputo di essere incinto. Perché Embrioni? Perché io volevo saltare la produzione, ho detto basta all'indipendente, non voglio fare produzione indipendente, io voglio fare sproduzione, e mettere in contatto il pubblico direttamente con la mia arte, lì dove quest'arte nasce, cioè chitarra e voce, anche perché tantissimi miei amici spesso mi ripetono oh ma lo sai che rendi meglio chitarra e voce che non con le basi, con gli arrangiamenti o con la band, non lo so, probabilmente, sicuramente mi sento più sciolto, il mio strumento, vado fuori e dentro al tempo, non devo stare, insomma è una forma espressiva un po' più libera. Da quella forma espressiva un po' più libera, ho detto vabbè, ho fatto un viaggio in Svizzera per lavoro, per il mio altro lavoro, c'erano dei panorami ben mozzafiato, ho detto adesso mi giro dei video, e sai che faccio? Invece di aspettare il produttore, l'etichetta, l'editore che mi dà l'ok, io li prendo e li butto in rete. E ho immaginato questo format, naturalmente il format embrioni, nel momento in cui ho scelto proprio il nome, il concept embrioni, richiede che un embrione si evolva. E così è stato, che i primi quattro video sono girati con un cellulare e un audio pessimissimo a ripresa fissa, poi dal quinto embrione in poi, in corrispondenza anche al fatto di aver saputo il sesto del bambino, insomma il mese in cui l'embrione si definisce, hanno cominciato a rifinirsi un po' anche i miei embrioni, i miei video, recuperando sempre via via qualità nelle riprese audio e video, ma mantenendo il concetto di tre take ad un unico piano sequenza dall'inizio alla fine. Se io tutto quello che faccio, anche con gli attori, con le decine di comparsa che hanno lavorato per noi, lo faccio soltanto tre take in un unico piano sequenza, come se fosse una rappresentazione teatrale, ripetuta per tre volte, faccio molta preparazione con gli attori musicisti, so due, in realtà da una settimana prima che comincio a rompergli le balle per fargli entrare nel mood e nella mia visione del videoclip. Poi un paio di giorni prima si fanno delle prove molto serrate, come se fosse uno spettacolo teatrale, una performance teatrale, live, e insieme a noi lavorerà anche il regista che poi acquisisce le immagini, in modo che poi quando noi facciamo per tre volte soltanto, eseguiamo, è una legge che mi sono imposta. Infatti in ogni video ci sono degli errori, perché nelle tre take che magari quella era la migliore, ma c'era un errore sporco, io l'ho lasciato perché me ne frego della perfezione tecnica in questo caso. Chiudo il discorso dicendoti che l'evoluzione embrionale si conclude con l'embrione omega, che io ho chiamato l'embrione numero 9, ombione 9 omega, in cui ci sarà la cooperazione, la collaborazione di 9 cantanti, 9 come i mesi e come gli embrioni, perché rappresenta contemporaneamente la nascita quindi dell'embrione che ha concluso il suo percorso. Io credo che i bambini siano di tutti e quindi la responsabilità di un bambino che viene al mondo è di tutti, è collettiva ed è per questo che ho voluto affidare la gestazione ad altri otto interpreti, perché un bambino quando nasce, ripeto, io ci lavoro da 25 anni con i bambini, è davvero di tutti, è responsabilità di ognuno di noi cantare questo embrione ed è per questo che ci sarà una cooperazione di 9 artisti in totale, di 9 interpreti. Bellissima questa cosa che insomma il processo creativo segue appunto la crescita come dicevi tu poco fa dell'embrione è bellissima, è molto romantica anche come cosa. Io poi ti ho visto anche, dicevo, mi sono stupito appunto nel vederti vestito da pirata e adesso mi ho spiegato il perché, adesso ho ricollegato quello che stavi facendo, è bellissimo, molto divertente, anzi consiglio agli ascoltatori di andare sulla tua pagina Facebook o dove? Sì, la pagina Facebook lo pubblico ovunque, la pagina Facebook si chiama Paolo Gatto Musica e la pagina Instagram e soprattutto il canale YouTube in una definizione molto più alta è Paolo Gatto Iacovelli che è il mio cognome vero. Quindi questo è un album in video praticamente, no? Sì, è un video album, sono video canzoni, anche le riprese sono funzionali alla performance live, infatti se dovessi mai mandarle semplicemente in acustico per radio mi scuso con gli ascoltatori l'audio ve lo premetto un po' pessimo ma non è quello il concetto, vi consiglio magari di farvi spiegare la curiosità e poi magari andare sul mio canale YouTube di Paolo Gatto Iacovelli a guardarlo montato sul video perché è tutta un'altra cosa. Perfetto. Io a questo punto Paolo io ti ringrazio ovviamente insomma faccio ascoltare già un paio di pezzi agli ascoltatori però come dicevi tu poco fa rimandiamo tutto sulle tue pagine web. Grazie Paolo buon lavoro. Vi aspetto. Aspetto tutto, ti abbraccio. Ciao Carlo, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao. Vi vai da capo. Ciao. Ciao.